Il caro energia è una priorità che va affrontata subito. Oggi siamo in Parlamento per esaminare il decreto legge aiuti bis, proprio perché siamo di fronte a un'emergenza nazionale che richiede misure incisive, efficaci e soprattutto rapide. Con la crisi energetica 9 milioni di italiani sono a rischio povertà. Dobbiamo assolutamente intervenire. La nostra proposta al Governo è di azzerare immediatamente le tasse sulle bollette di luce e gas. Dobbiamo garantire sostegno ai cittadini, famiglie e imprese.